Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video, oggi andiamo a vedere la partita di un noto personaggio storico, Karl Marx, il quale è stato un filosofo, un economista, un politico, giornalista, insomma un personaggio famosissimo che ha pubblicato il manifesto del partito comunista e poi dopo anche il capitale. In questo caso riuscì a pubblicare solo un volume, comunque Karl Marx, comunista. Come se la cavava a scacchi questo personaggio? E soprattutto che stile di gioco aveva? Perché io in realtà sono rimasto un pochino sorpreso. Prima di iniziare ricordo a tutti di mettere un mi piace, di iscrivervi al canale, grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo. Ok, eccoci qui, siamo in Germania nel 1867 e Karl Marx gioca con i pezzi bianchi contro Mayer. Non abbiamo molte partite di Marx da analizzare, tuttavia si diceva che non fosse un buon giocatore di scacchi. In questo caso vediamo questa partita amichevole che secondo me è molto interessante. Marx apre con E4, Mayer risponde con E5 e qui segue pedone F4, gambetto di re. Insomma non sorprende più di tanto, anche se io mi aspettavo che Marx avesse uno stile di gioco solido. In realtà nel XIX secolo il gambetto di re era la madre di tutte le aperture. Quindi ci può stare che da bianco Marx abbia giocato il gambetto di re, perché veniva giocato da tutti. Meier cattura in F4, quindi rientriamo nel gambetto di re accettato. E Marx, attenzione, non gioca a cavallo F3, ma continua con alfiere C4. Lascia scoperta la diagonale H4 e E1, quindi teoricamente il nero potrebbe dare scacco. Questa variante con alfiere C4 esiste, è una variante molto aggressiva, il bianco attacca subito la casa F7, però ecco è molto rischiosa allo stesso tempo. Mayer qui difende il pedone in F4 con G5, non gioca a donna H4. Marx continua con cavallo F3, sviluppa il cavallo e arriva pedone G4. Ok, in questa posizione già il bianco deve stare molto attento, perché se dovesse spostare il cavallo, ovviamente ora arriva donna H4 scacco. E qui sarebbe un problema. Marx decide di arroccare, lascia il cavallo in presa. Rientriamo nel gambetto Muzio. Molti di voi me l'hanno chiesto. Ok, eccolo qui, lo gioca Karl Marx. In pratica il bianco sacrifica un pezzo per avere vantaggio di sviluppo. Dopo pedone per cavallo, donna per pedone, rientriamo in questa posizione, che come potete vedere il bianco ha tre pezzi sviluppati, ha già messo il real sicuro, mentre il nero non ha sviluppato nessun pezzo. Bene, Mayer continua con donna F6. Marx gioca pedone E5. Come vedete è uno stile di gioco tattico e molto aggressivo. Sacrifica il pedone E, vuole che la donna catturi, per poi in qualche modo cercare di attaccare la donna e il re. Anche se al momento non è così banale. Queste sono tutte mosse che poi sono state giocate anche da grandi maestri, come ad esempio Nakamura. Mayer cattura con la donna, arriva a pedone D3. Ora Marx vuole catturare il pedone in F4 con l'alfiere. Mayer difende con l'alfiere H6 e segue cavallo C3. Il bianco continua a sviluppare i pezzi. Il nero gioca cavallo E7, quindi interpone un pezzo tra re e donna. E Marx gioca semplicemente alfiere D2. Siamo alla mossa numero 10 e il bianco ha finito lo sviluppo. Mentre il nero ha ben tre pezzi a casa sul lato di donna. E inoltre anche la torre in H8 non sta giocando. Per non parlare del re che si trova ancora al centro. Tuttavia in questa posizione sta meglio il nero perché il bianco gioca con un pezzo in meno. Ma dal punto di vista pratico sono sicuro che molti si ritroverebbero meglio a giocare con i pezzi bianchi. In pratica ora Marx vuole semplicemente sviluppare la torre in E1 e guadagnare un tempo sulla donna. Mayer sviluppa il cavallo in C6, segue torre E1, donna F5 e Marx salta con il cavallo in D5. Come vedete sta attaccando, sta mettendo pressione. Intanto vuole giocare cavallo per C7, scacco e guadagnare la torre. Sta comunque attaccando il cavallo in E7 e inoltre sta attaccando il pedone in F4. Quindi il cavallo D5 è un'ottima mossa. Mayer è costretto a difendere e gioca re D8, difende il pedone in C7 e Marx continua con alfiere C3. Con questa mossa attacca la torre, ma non è solo questa l'idea. Dopo torre G8 infatti, Marx gioca alfiere F6. Questa è una bella mossa. In pratica sta attaccando il cavallo in E7 ed è pronto a guadagnare un pezzo, a riprendere indietro il pezzo. Ora, il nero deve assolutamente difendere in qualche modo. E ha una bella idea, in questo caso il nero, gioca alfiere G5. L'alfiere contrasta l'alfiere del bianco, ma in più difende, seppur a raggio X sta difendendo il cavallo in E7. Quindi il bianco non riesce a guadagnare il pezzo. Allora Marx cattura in G5 e dopo donna per G5 gioca cavallo per F4. In pratica la posizione si fa sempre più tesa da entrambe le parti, perché il nero ora, come vedete, ha la batteria torre e donna e sta minacciando scacco matto in G2. Il bianco dall'altra parte sta difendendo, ma anche il bianco sta mettendo un sacco di pressione sul re del nero. Quindi vediamo cosa succede. Maier continua con cavallo E5, attacca la donna, attacca l'alfiere. L'idea è giusta, ci può stare a un pezzo in più, quindi deve cercare di cambiare i pezzi e di semplificare la posizione. Marx sposta la donna in E4, aumenta la pressione sul cavallo in E7. Maier spinge il pedone in D6, difende il cavallo e si prepara a sviluppare in qualche modo l'alfiere. E qui arriva una mossa tremenda da parte di Marx. Forse non è la mossa migliore, però l'idea è veramente devastante. In pratica Marx gioca pedone H4, sta attaccando la donna. Ma come mai? E vuole deviare la donna, quindi vuole che la donna catturi in H4, per poi giocare cavallo E6 scacco e catturare la donna del nero. Davvero una bella combinazione. Maier in questo caso capisce le intenzioni di Marx e gioca donna G4. Con donna G4 mantiene la pressione in G7. Tuttavia questo è un gravissimo errore, perché la partita ritorna in parità. Se la partita ritorna in parità con il bianco che ha un pezzo in meno, allora c'è qualche problema. La mossa migliore in effetti era donna G7 e tra un po' vediamo perché. Marx continua con alfiere per F7, attacca la torre, mette un pezzo in presa, perché dopo cavallo per F7 segue donna per cavallo in E7 scacco matto. Ecco quindi per quale motivo la mossa migliore era donna G7 per difendere il pedone in F7, per non lasciarlo in presa. Ora invece il nero sta rischiando tantissimo. Intanto ha la torre sotto attacco. Meyer la sposta in F8, attacca l'alfiere. Marx ritira l'alfiere in H5, attacca la donna. La donna si ritira in G7, da notare ora la posizione è pari, e Marx se ne esce con pedone D4. Attacca il cavallo e vuole ovviamente aumentare la pressione in E7. Segue cavallo C6, Meyer difende il cavallo in E7 e attacca il pedone in D4. Marx qui gioca una mossa tranquilla, ovvero pedone C3. Difende semplicemente il pedone in D4. E qui, a questo punto della partita, arriva una mossa molto strana da parte del nero. Una mossa che non ha molto senso. Pedone A5. Meyer vuole sviluppare la torre in A6. Ma anche se dovesse sviluppare la torre in A6, cosa guadagnerebbe da questo? Niente. Perché finché c'è il pedone in D6, la torre non può venire a partecipare all'attacco di qua, sul lato di Re. Quindi questa è una manovra inutile. Marx invece gioca una bella mossa, ovvero cavallo E6. Con questa mossa, come vedete, dà scacco, minaccia la donna, minaccia la torre. Quindi il nero è costretto a catturare. Meyer cattura con l'alfiere e arriva torre per F8 scacco. Mossa intermedia. Dopo donna per F8, donna per alfiere. Raggiungiamo questa posizione dove il bianco ha partita completamente vinta. Per quale motivo? È perché, nonostante il nero abbia un pezzo in più, la torre comunque è come se non giocasse. Inoltre, il bianco qui minaccia il 3G4, donna D7 scacco matto. Questo piano non è così semplice da parare. Segue comunque torre A6 per Meyer. Vedete qual è la sua idea? Torre A6, ma cosa serve? Non serve a niente torre A6. E Marx, attenzione, non gioca al 3G4, ma gioca a torre F1. Su alfiere G4, il nero poteva giocare donna E8, difendersi dal matto, quindi difendere la casa D7, e la posizione sarebbe tornata in parità. Quindi molto bravo qui Marx a vedere questa variante. Gioca a torre F1, vuole deviare la donna, quindi la donna non può più andare in E8, e dopo donna G7, ora gioca alfiere G4. Eccolo qui, sta minacciando scacco matto in D7. Mossa della disperazione qui per il nero, gioca cavallo B8. Un cavallo B8 controlla la casa D7, ma basterà A? No, non proprio. Marx gioca semplicemente torre F7. E in questa posizione Meyer abbandona, perché non c'è difesa. Questo è il problema. Il bianco minaccia di catturare e dare scacco matto. D'altra parte sta attaccando la donna in G7. Quindi dopo, ad esempio, donna G8, ma ragazzi veramente qualsiasi mossa faccia il nero, il bianco vince. Io vi mostro un esempio. Donna G8 segue donna per cavallo, scacco matto. Una partita molto divertente, molto interessante. Non mi aspettavo che Marx avesse uno stile di gioco aggressivo. Invece da questa partita emerge DC. Siamo arrivati alla fine di questo video. Grazie a tutti per la visione. Vi ricordo di mettere mi piace e di iscrivervi al canale. Ciao e alla prossima. Grazie a tutti.